Abbiamo scelto Eleonora d'Arborea per il 2020, sarà Ilenia Piras, una ragazza di Oristano, stavolta torna Eleonora una oristanese, 23 anni, è una ragazza che da quando era bambina partecipa alle sfidate, sia vestita in costume sardo che con il costume della corte. È una bile amazzone, quindi ha delle doti che sicuramente saranno utili per ricoprire questo ruolo molto importante per la nostra sardiglia. Grazie.